buongiorno ragazzi benvenuti alla nostra aria parcheggio qui su un lago dal nome impronunciabile però ve lo faccio vedere sulla mappa questa era stata la nostra vista da questo lato per questa notte super ventosa tra l'altro stavo notando guardate questi segni non so se si vedono con la videocamera sono tutti i residui di salvia che bagnata si è attaccata al nostro camion la temperatura è stra fresca metto un attimo videocamera fuori ho acceso il riscaldamento per una trentina di minuti perché adesso qui dentro sembra che ci siano 14 gradi l'inverter l'ho appena acceso quindi sono pronto per farvi vedere la vista più bella tadaaa guardate che spettacolo ieri sera tra l'altro abbiamo avuto un tramonto con dei colori magnifici finora qui non è che abbiamo visto questi grandi tramonti colorati insomma è sempre stato un po' coperto prepariamo la colazione qui abbiamo ancora un po' di casino perché ieri sera ho lavorato un po' dovevo sistemare un attimo prima di ripartire ah e ci siamo bevuti anche l'ultima ghoul che avevamo birra semi analcolica che devo dire a me piace come è andata l'aurora questa notte? non si è vista io avevo anche messo la sveglia yogurt skir com'è? sembra un budino però guarda il caffè com'è fumato, guarda com'è scalda, guarda com'è emette tutto il suo aroma mi sa che è ustionante ocio, vivulenza! parlando di mappa noi adesso siamo qui dove c'è questo minuscolo laghetto e dovremmo andare a premere questa strada che ci porta a Higginfoss che bull su una mappa c'è scritto bellissime e quindi andiamo a vedere se è vero poi dopo forse potremmo attraversare dall'altra parte del lago e scendere giù di qua oggi staremo un po' nella parte est dell'Islanda e qui era dove eravamo ieri bloccati guardate anche sulla mappa come viene segnata tutta questa zona vulcanica molto particolare con tutta questa conformazione di lava che è assolutamente unica al mondo faccio vedere la vista frontale, era questa prima di accendere il ranocchio devo girare un po' di diesel comunque era veramente un bel posto no? dobbiamo aprire l'altro tappo in modo tale che non si crei depressione vamo, vamo, riempiemos bene ragazzi siamo partiti guardate già che visto c'è al nostro fianco stiamo andando a vedere una barra due se si riesce cascati vamos la nottio, vamos vai salitino ragazzi guardate che posto che posto anzi come si dice famos in islandese allora sto provando con il traduttore sentite la cosa incredibile è che si è scritto tipo forum e si legge spettano, spettano, spettano tipo zffrmo zffrmo zffrmo, 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 zffrmo zffrmo 2 formi ma in fondo c'è il lago cioè ma è tanta roba o no foto naturalmente anche qui il cartello no camping ammazza è lassù comunque già lassù si vede una cascata o comunque c'è anche un vannozzo qua questo è uno dei tanti che noleggiano tantissime compagnie che noleggiano camper van bucconi ma chi è tutto mappa spettacolare io le amo queste mappe all'ingresso dei centri dove ci sono cose da visitare adesso noi siamo qui dobbiamo fare questo super high e andare a e jim fossi seconda comunque ragazzi non c'è anche il wc all'ingresso del parco stracomodo questo è ciò che speriamo di vedere qualora riuscissimo a fare la camminata quindi nel caso non ci arriviamo come averlo fatto c'è il cancello che c'è scritto che te lo devi chiudere alle spalle si inizia subito bene ci sono due chilometri delle scale ranocchio aspettaci torneremo sono già stanco ma è tosse sta salita cioè quindi fin là in fondo su due chilometri e mezzo è tutta salita qua c'è un discesino che se vai giù non la racconti rega la cosa più incredibile sono quelle pecore che si sono infilate nel canyon stavano seguendo la prima e che gli saranno dicendo ma non è che abbiamo sbagliato strada ma anche quelle la vabbè quelle si sono fatte il sentierino a che posto si sono trovate ma quelle pecore come ci sono arrivate lì come ci sono arrivate queste colonne di basalto sono assolutamente incredibili di fatto si sono formate a seguito di una colata di lava che si è solidificata abbastanza lentamente e questi spigoli vengono creati proprio dalla fase di raffreddamento della lava stessa e quasi sempre formano delle forme perfettamente esagonali e qui vediamo bene il lago che abbiamo costeggiato per arrivare fin qua attenzione perché si comincia ad avere una visione mi ricorda alcune delle cascate che abbiamo visto in sud america e noi ci andremo a fare la doccia prima o poi spunterà anche l'uscita di dietro l'aspetto l'aspetto mi sa che l'ultimo pezzo di sentiero un po in off road senza snorkel ragazzi eccoci arrivati alla fine del sentiero ce l'abbiamo fatta che spettacolo è stata una bella passeggiata ma ne valta la pena in pratica quelle strisce rosse si sono formate tra un'eruzione e l'altra e si sono colorate quando la nuova lava cadendo sopra ha reagito con tutti gli agenti chimici di cui è formata la cenere lavica e quindi pian piano è diventata rossa e quindi Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ragazzi, siamo arrivati a Valle e stiamo notando un mezzo abbastanza interessante. Quelli che in viaggio non abbiamo mai incontrato perché sembrano più da parco giochi, però guardate che roba. Un U-4000 nuovo de pacca, tantissima roba. Questo sembra veramente pronto per la guerra. Tutte le piastre super nuove, tutto super nuovo ragazzi. Sembra comprato apposta per venire qua. Tutto sta in baradana e la marmitta. Occupa un po' di spazio. Il fatto che sia stato usato veramente poco si capisce perché. È assolutamente pulito, scarico. Cioè, notare solo come è stata curata la costruzione della scaletta o già piedi. Tutta la lavorazione della fresa di alluminio dal pieno. Non posso immaginare quanto costi solo la scaletta. Protezioni per il gonfia-sgonfia. Notare i poggiapiedi su questo roll bar. Sono piccoli dettagli ma interessanti. Questo tubo dell'acqua probabilmente è tipo un portaattrezzi. Cioè, avrà dentro qualcosa di poco valore ma che può essere comodo tenere qua. Bene, siamo ripartiti. Adesso attraversiamo il lago usando il ponte che abbiamo visto a lungo durante la nostra camminata. E percorriamo la strada al lato opposto per tornare verso il paese. Una bella passeggiata. Guarda che stradina tra i boschi. Ragazzi, qua c'è il supermercato bonus. Abbiamo capito essere quello più economico di tutta l'Islanda. E quindi ci fermiamo un attimo. Non è che dobbiamo comprare tante cose. Qui nel supermercato più che altro abbiamo capito che serve la giacca per entrare nel reparto fresco. Ranocchio parcheggiato. Andiamo al bonus. Prendiamo il mini carrellino. Allora, l'altra volta abbiamo comprato delle cose che erano veramente buone. Questo pitubargum grofit costa incredibilmente poco. Il nana col garlic. Buone. Qui è pieno di roba messicana che direi che in questo momento non ci serve. Speriamo di mangiare quello originale tra poco. Ok, direi che le schifette ne abbiamo messe dentro abbastanza. Ora pensiamo alle cose da mangiare. Entro dentro il frigorifero. Ci sono sempre i mirtilli peruviani. Qui ragazzi ci sono dei pescadomarinati. Chissà che roba è. Ce ne sono di diversi tipi. Cipolla. Io sarei anche per provarle. Questo costa circa 3 euro. Il prato di urso ne erano niente male. Questi con i talinskin feta direi di no. Anche perché sembrano identici a questi con i peperoni. Non si capisce tanto bene la differenza. Proviamo questi quei peperoni. Proviamo questi che hanno dei colori strani. Ragazzi qua i tortellini ci sono di due prezzi. Costano assolutamente uno tantissimo rispetto all'altro. Non riesco a capire quali sono quelli da questi da 198 euro. 200 pro verde. 250 guanni pro. Pro. Qua c'è la ghoul. Sono dovuto uscire un attimo perché mi stavo surgelando dentro il reparto carne. C'è sta specie di tramezzino. Costa quasi 2 euro. Che belli gli scatoloni dove metterlo a spesa. Spam. Abbiamo speso 10.000 corone ragazzi. Cioè da mangiare non abbiamo comprato praticamente niente. Cara di santa raga. Non male che non dobbiamo vivere sul camion qua. Perché non sarebbe possibile. Assolutamente. Bene carichiamo la spesa e vamos. Ripartiamo. Oggi ritardiamo parecchio il pranzo. Ma vogliamo andare verso Seyo City Fispi. Che dovrebbe essere uno dei paesi più interessanti della costa. E tra l'altro è anche il paese dove arriva il traghetto che arriva dalla Danimarca. Che strada. Ragazzi stiamo raggiungendo il passo. Una bella implicata. Ci fermiamo a mangiare ma dall'altra parte abbiamo già visto il cuore. Tac tac. Dobbiamo ancora sistemare la spesa eh. Questo è il reparto dolci mi pare di capire. È dolci e poco salato a parte un dentifricio. Ah io assaggerò anche questo ti dirò. E qui intanto cosa ci stiamo facendo? Con la pita brau. Più una pina pita insieme. Ah infatti c'è anche scritto pita. Pita brau in effetti si poteva anche capire. Oh ma qua lo stiamo imbottendo per bene. Che cos'è quello che ci hai messo dentro? Come lo stiamo facendo questa pita? Ah ci abbiamo messo dentro il brod studo. La Ita's Grand Salat. E un po' di Mexico. Anche il formaggio quello un po' piccante. La Salat no. Questa ce la mangiamo a parte. Comunque vediamo fuori quanti gradi dice. 12 gradi ma non lo so. Di questo termometro esterno non mi fido tanto. Adesso è sincero. Dentro mi sembra più affidabile. Wow. Oggi pranzo veloce. È un po' ritardatario ma veloce. Ma è buono. Non credo sia molto tradizionale l'islandese. Metti un po' di pesce dentro e diventa tradizionale. No, non vorrei mischiare i sapori e perdermi il gusto di quel pesce. Sildar, Vitar sono pezzi di aringhe. Ammazza forte. Ma così senza pane? Adesso prendiamo un po' di pane. Vediamo un po'. È molto dolce. È molto dolce ma quasi zuccherata. Siamo arrivati al paese. Campsite reception. Ah, questa è la campsite. C, scarico, lavatrice. C'è anche il simbolo della lavatrice. Potrebbe essere una buona cosa. Andiamo a visitare il paesotto. Ed eccoci ragazzi. Guardate che posto incredibile. Che casine. Oh, il signore qua ha le galline in casa. Non avevo ancora visto le galline qua. Questa ragazzi è la Norrona. Che è la nave più conosciuta per venire qua in Islanda con il proprio veicolo. Perché è una nave su cui ci si può imbarcare e ci si possono imbarcare anche il proprio veicolo. Il nostro Ranocchio non è venuto qua con questa perché è venuto con una nave Carlo. Però su questa nave si può provare l'ebrezza di navigare sull'oceano per tre giorni e arrivare in Danimarca. Ragazzi, la mini casa delle sculture qua dietro al porto. Le case non mi dispiacciono affatto. Ragazzi, qua praticamente abbiamo già finito il giro del paese. E stavamo cercando un parcheggio dove magari sostare stanotte. E qua c'è scritto che i camper non possono sostare. Mannaggia! Che colori ci sono? Che colori ci sono? Bellissimo. E questo stabile è davvero tanta roba. Chissà che roba è. Del 1907 c'è scritto, eh. La piscina! Chissà che bel caldino che c'è lì dentro. Qui c'è il parchetto con i giochi per i bambini. Ah, se qualcuno si è perso il guanto è qui, eh. Questa ragazzi deve essere la via dei locali. E lì c'è questa casina tutta decorata. E quella, che roba è? E questo in realtà invece sarebbe il camping. Che abbiamo visto costa 10 euro a persona per parcheggiare qua praticamente. Però quello che vorremmo vedere noi è se si può fare il bucato. Perché qua c'è il simbolo del bucato. Allora, abbiamo capito che per fare lavatrice bisogna prendere i gettoni. Però per prendere i gettoni bisogna aspettare le 18. Ciò che significa che comunque alla fine dovremmo stare lì. Perché non possiamo portargli la roba per andare via. Non vogliamo spendere 20 euro per parcheggiare un parcheggio. Credo che torniamo indietro e magari andremo dove abbiamo dormito questa notte. Che praticamente è dall'altra parte del passo. Sta già un po' più viscolando. Oh, non stiamo andando a prendere la nave, eh. La Norrona. La c'è il paesino. Ma alla fine della giornata abbiamo fatto esattamente il giro pesca e ritorniamo a dormire dove eravamo ieri sera. Ebbene, sì, ci sono arrivati talmente bene ieri sera che ci ritorniamo. Il nostro posticino sembra sempre tranquillo. Vediamo. Vediamo. E tu hai sbagliato anche stasera. Perché? No, guarda dove punta il vento stasera. Ah, stasera il vento è cambiato. Quindi l'è giusto. Quindi l'è giusto. Ah, stasera. sozusagen a fare qualche giorno. E dubbi Non. Grazie a tutti